Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Ancora in accidenti sul lavoro ad Arezzo, purtroppo si tratta del terzo episodio nell'arco di tre giorni nella nostra provincia, il secondo nella nostra regione, nella giornata di oggi. L'episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno all'interno di una ditta orafa del distretto Aretino, la G2 di San Zeno. Un uomo di 36 anni straniero sarebbe salito su una scala per lavorare ad un condizionatore. Improvvisionalmente sarebbe caduto rovinosamente a terra, riportando fratture in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 dell'Asla Toscana Sud-Est. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Dopo le prime cure il codice è stato declassato a giallo. Il 36enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche l'ambulanza della Croce Rossa di Arezzo, mentre i rilievi sono stati effettuati dal PIS, il servizio di prevenzione, igiene e sicurezza, sui luoghi di lavoro di Arezzo. Nella nostra provincia in pochi giorni questo episodio è stato preceduto dall'infortunio subito da una donna austenata nel Tomaificio di Levane e da un uomo rimasto schiacciato da un ramo mentre lavorava nei boschi del Casentino. Torniamo a parlare dell'omicidio di San Polo. Sandro Mugnai che uccise il vicino che assaltò la sua casa con l'escavatore andrà a processo. Le difese hanno richiesto il rito abbreviato. Chiara Sadotti. E' convinto che i fatti che ci sono stati siano stati imposti a lui dagli eventi, da quello che è stato il comportamento del Dodoli. Era il 5 gennaio del 2023 quando Sandro Mugnai uccise a fucilata il vicino Gesim Dodoli che gli stava demolendo la casa a colpi di ruspa. Una tragedia sulle colline di San Polo. Adesso il 54enne artigiano andrà a processo. Subito dopo i fatti Mugnai venne arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Qualche giorno dopo fu scarcerato dal GIP che qualificò l'episodio come legittima difesa. Al termine delle indagini preliminari invece la PM Laura Tadei ha formulato un'altra accusa eccesso di legittima difesa. E' puntualizzato su alcune circostanze per il quale il pubblico ministero non ravvede che nel comportamento del Mugnai si possano integrare gli estremi della legittima difesa. Vi sono delle circostanze, il numero dei colpi, la provenienza dei colpi che per il pubblico ministero non sono chiare. Noi abbiamo la nostra teoria e cercheremo di dimostrarla per convincere il giudice della bontà del nostro assunto. I legali di Mugnai hanno chiesto di poter ricorrere al rito abbreviato. Riteniamo che nel fascicolo ci sia già tutto. Quello che è accaduto è stato uno stress enorme, una tragedia per entrambe le famiglie fuori discussione. E non c'era bisogno di rinnovare l'istruttura dibattimentale, il fascicolo è completo. Credo che ci siano tutti gli elementi per una serena valutazione da parte del magistrato che noi ci auguriamo che concluda per il nostro punto, che condivida il nostro punto di vista. La prossima udienza è in programma per il 17 settembre. La moglie di Dodoli e i due figli si sono già costituiti parte civile. Sarebbero quattro le persone che hanno fatto parte della banda che ha sbaliggiato la castoro di Cassio Fibocchi nel cuore della notte tra sabato e domenica, mettendo a segno il colpo di circa 2 milioni di euro tra lingotti e preziosi sul posto. Dopo che era scattato l'allarme erano accorsi i vigilantes insieme al proprietario. Questi avevano fatto alcune verifiche ma tutto sembrava in ordine, per cui si erano allontanati. Allora i ladri avrebbero capito di avere scampato il pericolo e sarebbero rimasti per proseguire indisturbati. Alla fine se ne sarebbero andati, direguandosi nel buio sicuramente con l'aiuto di altri complici, forse due persone all'esterno e portando via il bottino. Continuano le indagini intanto dei carabinieri della compagnia di Arezzo guidati da Silvia Gobbini e quelli del nucleo della radiomobile. Intanto sono state inquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e che in un primo momento sembrava che non avessero registrato nulla. E con un post sui social che Nicola Carini, uscito sconfitto dalle amministrative a Cortona, invita l'elettorato a votare per Meoni al turno di ballottaggio. Per non rischiare, si legge, di riconsegnare la città di Cortona al centro-sinistra. Laura Lucente. Carini, due giorni dopo il voto, può ragionare su quello che è successo? I ragionamenti sono stati fatti tanti, ancora non sono finiti. Dobbiamo sicuramente tirare le fila e capire cosa e dove abbiamo sbagliato. Che lo sbaglio ci sia evidente, valuteremo ancora nei prossimi giorni e tireremo le fila. Ma cosa non ha realmente funzionato secondo lei? Ma i motivi sono tanti, insomma, da analizzare. Una disfatta del genere, insomma, non può essere un errore soltanto. È partito da lontano, probabilmente non siamo stati capiti rispetto alla nostra proposta politica, alla nostra idea e gli elettori ci hanno dato un segnale chiaro, insomma. Rifarebbe tutto quello che ha fatto? Ma sì, io l'ho già detto, non ho fatto questa battaglia per convenienza, ma per convinzione. Penso che la politica vada interpretata così. Le cose non si fanno perché ci conviene fare qualcosa, ma perché crediamo che quello che facciamo sia il percorso giusto. Poi ci mettiamo al volere degli elettori, gli elettori hanno detto altro, quindi ne dobbiamo necessariamente prendere atto. Lei ripartirà dagli scranni della minoranza come agirà da qui ai prossimi cinque anni? Ma io ripartirò da lì, agirò come ho sempre fatto. Insomma, le cose che trovo corrette e giuste per la popolazione e la cittadinanza avranno il mio appoggio indipendentemente da chi le propone. Le cose che non riterò giuste, corrette o utili alla popolazione avranno il mio voto contrario. Insomma, credo che la politica si possa anche interpretare in questo modo qui, dai banchi dell'opposizione. Ripartiamo da lì e vediamo di ricostruire qualcosa di importante per il centro-destra e per Cortone. Intanto però c'è un ballottaggio da fare. Lei ha chiaramente detto che appoggerà Meoni. Sì, assolutamente, lo ribadisco. Questo è quello che hanno detto gli elettori, quindi necessariamente bisogna ripartire da lì. C'è il ballottaggio, il mio confine è sempre stato quello del centro-destra, ho detto sempre mai con P10 5 Stelle, lo ribadisco. E quindi il candidato in questo momento che è andato al ballottaggio del centro-destra è Luciano Meoni. Quindi credo che noi che rappresentiamo i partiti dobbiamo appoggiare Luciano Meoni. Certo è che Meoni ha chiesto un po' di teste, sia comunali che provinciali. Lei come risponde a queste provocazioni di Meoni? Io non rispondo in nessun modo. Penso che Meoni si debba preoccupare di fare il ballottaggio, di vincerlo e incominciare a pensare che il bene comune sia il centro-destra unito. Penso che questi litigi non abbiano fatto bene a nessuno. Oggi se avessimo avuto probabilmente un rapporto diverso avremmo già vinto al primo turno. Questa è la colpa, come dire, me ne prendo in larga parte io, ma quando si litiga non è mai colpa di uno solo. Credo che la colpa sia di tutti. Ecco, credo che da qui in avanti si debba ragionare in maniera diversa, non con persone che pensano di avere la verità e altre che invece sono in difetto. Ma dobbiamo ragionare con un'unica testa, un'unica voce, ma appunto ragionare, parlare e confrontarsi. Credo che questo sia il sale della vita in generale, ma anche della politica. Quindi dobbiamo ripartire da lì. Poi il futuro, quello che ci riserverà, lo vedremo. Qualsiasi cosa, insomma, verrà fuori. L'importante è che ci sia sempre al centro Cortona e sui cittadini. Movimentato episodio questa mattina in Campo di Marte ad Arezzo. Un giovane accusato di aver maltrattato un cucciolo è stato fermato dalla Polizia Municipale. Tutto sarebbe iniziato con una richiesta d'aiuto da parte di alcuni passanti. Raccontavano di aver visto un ragazzo straniero maltrattare un cagnolino di pochi mesi. Stando alle testimonianze, lo avrebbe lanciato più volte in aria. Quando sono intervenute le forze dell'ordine, però il giovane ha dato in escandescente e ha cominciato ad urlare. Poi ha tentato di togliersi gli indumenti, probabilmente questo in condizioni psicofisiche alterate. Il ragazzo ha continuato a reagire anche dopo che gli agenti lo hanno ammanettato. La situazione è stata riportata alla normalità solo dopo l'arrivo dell'ambulanza e l'intervento del personale sanitario. Il cucciolo è stato affidato alle cure degli operatori dell'EMPA. Parliamo di giostra. Si avvicina sempre di più la data del 22 giugno, quando scenderanno in piazza i quattro quartieri che sfideranno il buratto. Intanto, riunione tecnica questa mattina al tavolo per la sicurezza pubblica in vista della giostra del 22 giugno. Una novità più importante è la location della consegna della Lancia d'Oro. Non sarà più il terrazzino come ormai avveniva da qualche anno, ma tornerà sotto la tribuna, presso la tribuna d'Orore, quella delle autorità sul lato del Palazzo di Fraternita. Sentiamo. Tornerà la consegna della Lancia in piazza Grande sotto la tribuna con alcune precauzioni, ovvero che nel momento in cui verrà decretato il vincitore nessuno deve lasciare la propria postazione finché non venga eseguito l'inno e il sindaco raggiunga la nuova postazione di consegna. La consegna della Lancia d'Oro al quartiere vincitore torna ai piedi della tribuna. È senza dubbio questa la notizia più attesa che emerge dal vertice in prefettura per l'ordine e la sicurezza pubblica. Sono convinto che porterà il nostro giugamento sia in sfilata che nella conclusione finale della Giostra che è corretto che si concluda con l'esaltazione di piazza. Io aggiungo semplicemente che è il momento di maturare, questa è l'occasione da parte di tutti, del mondo Giostra, se vogliamo bene alla Giostra, bene, fin da giugno, essere tutti allineati a queste nuove proposte. L'aspetto più significativo è proprio la sensibilità mostrata dal signor prefetto, dal sindaco, che hanno assecondato un'esigenza forte che veniva nei quartieri e siamo sicuri che la meriteremo, insomma, sarà una bella posta. Faremo il possibile perché vada tutto bene. Inizia così il conto alla rovescia per la prima edizione 2024 della Giostra del Saracino che si correrà sabato 22 giugno. La 145esima edizione è dedicata a Giorgio Vasari nei 450 anni dalla morte. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha presentato Splasticando i fiumi, la campagna per liberare i corsi d'acqua, in programma campagne di sensibilizzazione e attività di identificazione e raccolta dei rifiuti abbandonati con il coinvolgimento delle comunità locali e delle scuole. Il servizio. Nonno, guarda, è una bottiglia. Nonno, dai, raccoglila. Contribuisci anche tu all'operazione Splasticiamo i fiumi. Arriva Splasticiamo i fiumi, una campagna di informazione e comunicazione per liberare i corsi d'acqua dalle plastiche. Per promuovere una solide e capillare alleanza per l'Arno e i suoi affluenti è stata così siglata una convenzione dall'autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Un'opportunità di poter usare alcune risorse per supportare, per promuovere, per diffondere iniziative sul territorio volte alla raccolta delle plastiche. raccolta delle plastiche e abbiamo messo insieme noi sensibilizzazione e dell'educazione a confronti dei ragazzi, giovani, generazioni e, lasciatemelo dire, anche degli adulti perché i ragazzi sono estremamente, come dire, sensibili al tema ambientale. Lo facciamo in territori dove l'Arno è una parte non soltanto del paesaggio ma anche una parte della vita delle persone. Lo facciamo in territori che sono già pronti a recepire questo messaggio come qua. Il piano antiplastica della durata di due anni coinvolgerà tutti gli stakeholder dei contratti di fiume promossi e coordinati dall'ente consortile sull'Arno e sui suoi affluenti. Tante le azioni previste. Lavoreremo con le scuole, con il progetto Amico CB2, dove oltre a parlare dell'attività del Consorzio di Bonifica parleremo proprio dell'importanza di mantenere i nostri corsi d'acqua puliti, ma poi anche attività con i pescatori, con l'Egambiente, con il quale abbiamo fatto tanti momenti di pulizia dei corsi d'acqua e poi anche con circoli, parrocchiali, locali. Quindi tante iniziative per coinvolgere e sensibilizzare tutti i cittadini, tutte le comunità con un occhio d'attenzione ovviamente ai più piccoli. Cambiamo decisamente argomento, grande evento per certificare la rinascita di un locale dalla vita travagliata. Sabato sera, 15 giugno, in programma l'apertura del Bambu Club in via Simone Martini a Derezzo. In questo luogo, agli inizi degli anni 2000, un'attenza struttura aveva ospitato per la prima volta il notti d'estate. Dopo tanti anni di abbandono, qualche tempo fa aveva trovato posto sotto il tendone una pizzeria e un cocomeraio. Adesso ci si riprova con un'importante ristrutturazione da parte di Gabriele Tenti, 41 anni, aretino, amministratore del centro sanitario polispecialistico Sapra SRL, che ha deciso di investire in città con questa iniziativa imprenditoriale fuori dagli schemi. È un progetto che ho portato avanti con mia moglie Arianna. Ha detto Gabriele Tenti, abbiamo coltivato per diversi anni e alla fine siamo riusciti a renderlo concreto con l'obiettivo di trasferire ad Arezzo l'essenza dei bei momenti trascorsi all'estero. Ci piaceva l'idea di creare un ambiente in cui evadere dalle preoccupazioni quotidiane dove vivere un clima di vacanza per qualche ora. Domani, naturalmente, è l'anteprima per istituzioni e stampa. Un murales che segna la conclusione della campagna di crowdfunding. Non ci resta che piangere al cinema Eden di Arezzo. Questo è il modo di dire grazie alla città e a chi ha permesso la prosecuzione di una realtà culturale artina. La realizzazione avverrà grazie al contributo degli studenti del liceo artistico celebrando il legame tra giovani e cinema locale. Sentiamo. E' questo gesto della donazione che potrebbe anche sembrare come un dono che è arrivato quando c'era bisogno di sostegno. Ecco per l'appunto il dono per l'uomo quindi di realizzare comunque qualcosa che magari piace anche ai bambini soprattutto quando ecco vanno a vedere un film. Sta prendendo forma e colore in questi giorni quello che è stato definito lo spettacolo più bello non un film ma l'ultimo atto della campagna di crowdfunding non ci resta che piangere iniziata il 20 ottobre 2022 che ha permesso all'Eden l'ultima sala cinematografica del centro storico di Arezzo di continuare la propria programmazione. Per ringraziare la cittadinanza che ha aiutato il Cinema Eden a risorgere abbiamo scelto insieme ai ragazzi del liceo artistico di fare prima un concorso di bozzetti per un murales che si sta realizzando in questi giorni e il vincitore appunto ha avuto il premio di essere l'immagine della facciata del Cinema Eden e quindi i ragazzi stessi sono proprio operativi per realizzare con i colori, con il disegno con le proporzioni, insomma con tutta la loro professionalità questo murales. Gli studenti del liceo artistico di Arezzo prima hanno disegnato i bozzetti poi una volta scelto il vincitore pennelli alla mano stanno realizzando il murale. È uno stage che dura tre settimane quindi ha regole e orario di cantiere e sono un gruppo che ha aderito a questo stage perché comunque la scelta è personale e sono una decina di ragazzi che stanno lavorando. È una bella iniziativa perché restituisce alla città il valore aggiunto dell'arte e nel stesso tempo è un modo per dialogare con la città. Il cantiere terminerà il prossimo 22 giugno mentre i bozzetti sono espossi nell'atrio del cinema pronto a riaprire tra pochi giorni le sue porte. Comincia l'estate quindi usciremo all'Arena Eden con le proiezioni e con gli spettacoli dal vivo e sarà quello il momento di inaugurare questo murales e sarà sicuramente un momento bello sia per noi che per la città. E passiamo ad una ricca pagina sportiva questa sera cominciando con il calcio, l'Arezzo verificate le domande di iscrizione al campionato di Serie C da parte della Covisoc una sola società è stata bocciata a Lankona che proverà a far valere le proprie ragioni ricorrendo in appello ma con scarse probabilità pressoché quindi nulle diveniste assolta. Il suo posto nonostante le tante polemiche anche dello scorso anno lo prenderà dunque un'altra squadra B di una società di Serie A la terza dopo Juventus, Next Gen e Atalanta Under 23 sarà quindi il Milan affidato all'ex difensore Bonera in panchina che giocherà le sue partite casalinghe a Solbiate Arno vicino a Milanello nel probabile prossimo girone degli Amaranto inoltre c'è da segnalare anche la penalizzazione inflitta alla spalla tre punti da scontare nella prossima stagione per mancati pagamenti IRPEF di gennaio e febbraio a Dempals la domanda dell'Arezzo invece come da previsioni è stata accettata senza riserve e proprio in casa Amaranto alleggeriti da questa notizia adesso dopo l'ingaggio del nuovo allenatore Troise va organizzandosi anche il suo staff per il momento resta solo ufficioso il secondo allenatore sarà Di Cecco ormai fidato vice per il preparatore atletico è stato fatto il nome di Matteo Basile ex Lazio Ternana e Crotone con lui è praticamente certa anche la permanenza di Maurizio Pecorari preparatore di totale affidabilità mancano ancora le nomine dell'allenatore dei portieri uno dei papabili potrebbe essere Francesco Franzese e poi il match analyst per la rosa dei giocatori da chiarire il futuro di Luca Castiglia è di Fabio Foglia il piemontese è in scadenza di contratto al 30 giugno per lui si è parlato però di un possibile incarico da collaboratore tecnico nel frattempo tre club di Serie B hanno messo gli occhi su Emiliano Pattarello esterno offensivo di questa stagione in Amaranto otto reti sei assist collezionati in questa stagione in Serie C con la maglia dell'Arezzo sul calciatore ci sarebbe l'interesse di Cosenza Cittadella e Sud Tirol rimaniamo in ambito di calcio perché come ogni anno si assegna il timone d'oro quindi Davide Nicola è il vincitore della ventitresima edizione del timone d'oro premio che la sezione AIAC associazione italiana allenatore di calcio assegna ogni anno al tecnico che sia maggiormente distinto il tecnico succede nell'albo d'oro ad Antonio Conte la cerimonia di premiazione è in programma martedì 25 giugno alle ore 20 presso l'hotel Minerva di Arezzo è stato fissato per lunedì 8 luglio alle ore 21 e 15 l'appuntamento con la quarta edizione del premio Aquila d'oro città di Arezzo dove verranno raccontate storie virtuose di atleti e di personalità della società civile con la loro azione sono state esempio di impegno e determinazione di etica e fair play l'evento è organizzato dalla società ginnastica Petrarca in sinergia con il comune di Arezzo e di Coni il tutto ospitato nel suggestivo scenario della fortezza medici l'evento è stato presentato oggi presso la sede del consiglio regionale della Toscana che ha rinnovato il proprio patrocinio e contributo al premio per la sua importanza sportiva e sociale tra i protagonisti della serata Igor Cassina ginnasta oro olimpico alla sbarra ad Atene 2004 che riceverà il premio Aquila d'oro il valore nel successo Gere Gnocchi che regalerà agli spettatori momenti di leggerezza ironica il cabarettista ex zelig Sergio Sgrilli che sarà presente in veste di conduttore allo spettacolo contribuiranno le coreografie della Gimna e Strada e dalla ginnastica Petrarca e terminiamo con notizie che riguarda il calcio femminile le ragazze del calcio aretino under 17 volano in semifinale nazionale dopo aver battuto nei quarti il Bari per 2 a 0 l'andate 4 a 0 al ritorno le under 17 dell'Arezzo calcio femminile di mister Giacomo Dani sono entrate di diritto tra le migliori quattro squadre d'Italia della loro categoria la semifinale oltre all'Arezzo la affronteranno la Juventus la Roma e l'Inter le semifinali nazionali si svolgeranno a Fermo e San Benedetto del Tronto il giorno 28 giugno le aretine affronteranno la Juventus mentre la Roma incontrerà l'Inter in caso di vittoria le Amaranto scenderanno di nuovo in campo per la finalissima domenica 30 giugno alle 17.30 a Fermo e la partita sarà trasmessa in diretta da Dazon in caso di sconfitta in semifinale ci sarà comunque da giocare per il terzo e il quarto posto la finalina in programma domenica sempre 30 giugno allo stadio della Valle di Porto Sant'Elpidio a Mare alle ore 10 questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV a Mare a Mare Grazie.